E' un bel montalto quello che ha avuto la meglio sul Savoia ieri al Marco Lorenzo, i bianco-azzurri guidati in panchina da Andrea Spinelli, si sono ben comportati avvicinandosi a son di colla ad una salvezza che sa di storico per la società del presidente Sorbo. Sin dall'inizio Chiuzzi e compagni sono andati all'attacco provando a mettere sui binari giusti il match che invece al quarto d'ora prende la strada campana dei bianconeri che passano grazie all'1-2 Savarese a Moruso che obbriacano la retroguardia calabrese ed infilano Ramunno per l'1-0 del Savoia. Il montalto prova a reagire, sfiora il pari con Piemontese, ma il gol subito si fa sentire, tant'è che Sec Mudu rischia addirittura l'autorete. Scampato il pericolo, il pareggio arriva puntuale allo scadere della prima frazione con Salandria dopo uno scambio Chiuzzi-Giannelli. La ripresa è un monologo dei padroni di casa che partono a testa bassa verso un avversario che sembra aver mollato e dopo qualche occasione, nei primi minuti, con gli annelli e Piemontese spesso pericolosi, trovano nel finale un 1-2 micidiale che porta le firme proprio di Piemontese e mattatore scatenato. 3-1 e fischio finale che permette al montalto di raggiungere quota 44 punti, davvero ad un passo dalla salvezza.